Martedì 16 maggio 2017. È il 136esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del toro. La chiesa ricorda Santa Adamo. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Adamo, Onorato, Baldo e Margherita. Accadde oggi. Il 16 maggio del 1929 a Hollywood, California, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. Il primo premio Oscar come miglior film venne assegnato ad Aurora di Murnau. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri a Laura Pausini, nata a Faenza il 16 maggio 1977. La citazione del giorno. La gente è superba soltanto quando ha qualcosa da perdere e umile quando ha qualcosa da guadagnare. Henry James. Dice il saggio. Se l'ago non passa, il filo non lo segue. Proverbio africano. La parola preziosa. Con il sole che diventa sempre più caldo, attenti alle razzate. Questa parola, che racchiude in sé il termine raggio, indica infatti una scottatura solare, un'irritazione della pelle dovuta all'esposizione al sole.